Entrare in Ideal Italia significa entrare in una grande multinazionale, in uno dei principali player del mercato della grande distribuzione organizzata a livello mondiale. Ideal Italia è una struttura in continua espansione ed in crescita che permette attraverso i piani di inserimento e di formazione lo sviluppo costante delle proprie risorse. Inoltre, entrare a lavorare con noi significa entrare in una grande squadra di 16.000 collaboratori. Grazie a tutti.